Roma, piazza Capizzucchi, una piazzetta appartata a pochi passi dal Campidoglio. Questa è la piazza del Conte Tacchia. Ci riferiamo al film di Sergio Corbucci del 1982 con Enrico Montesano. Nel film, al posto di questo portone, è una farlocchissima fontana del Mascherone che, come si sa, si trova in via Giulia. Lì invece c'era la bottega del padre del Conte Tacchia, il falegname interpretato da Paolo Panelli. Nota a margine. Questa piazza in pratica è diventata un parcheggio.